A Pofi triunfa l'equipaggio Minchella Carcone che su Pecio 207 Super 2000 si aggiudica la terza edizione della rally Terra di Argil. Sul podio salgono anche Marcoccia Malizia su Renault New Clio a 20 secondi e Campagna Caprarelli su Renault Clio RS ad oltre un minuto. Sono state 52 le vetture che hanno preso il via sabato sera da Pofi, un rally davvero molto selettivo con circa 50 equipaggi ritirati. Dopo sei tratti cronometrati l'ha spuntata dunque il Cassinate Minchella che ha preso il comando della gara al termine della terza speciale quando il leader fino a quel momento Emanuele Giannetti navigato da Felice Pizzuti ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al motore della sua Mitsubishi Avonore. Da quel momento in poi Minchella dunque ha avuto vita abbastanza agevole conquistando ben quattro delle sei speciali. Ottimo il secondo posto per Daniele Marcoccia e Daniele Malizia. Il giovane pilota di Veroli alla seconda gara con la Clio R3 ha dato spettacolo lungo il tracciato vincendo anche la quarta speciale. Come detto a chiudere il podio l'equipaggio Campagna Caprarelli in gara con la Clio RSN3. Per il pilota di Castro De Volci oltre che il successo di classe anche la vittoria di gruppo M. Buona la prova offerta da Francesco Bucciarelli e Riccardo Silvaggi. Nonostante i problemi ai freni della loro Clio A7 hanno conquistato infatti un'ottima quarta piazza. Mancavano dalle competizioni da circa due anni. In quinta posizione l'equipaggio Fiorella Mariani che l'ha spuntata sull'equipaggio Scaccia Scaccia e entrambi erano a bordo di una Clio Williams A7. L'unico pilota non ciociaro nella top 10 è il romano Vittorio Di Giovanni. Tra i primi dieci da segnalare anche Tiberia Maliziola con la piccola Fiat 600 e Marco Oddi navigato da Gianfranco Silvestri. In decima posizione hanno chiuso i fratelli cecanesi Ezio e Alessandra Bronzi, vincitori anche della classe A6. Tra i ritiri eccellenti da segnalare quello dell'equipaggio sul pizio Alicervi per un problema al motore della loro vettura. La terza edizione del Rally Terra di Argil va così agli archivi. Appuntamento al prossimo anno.